Il progetto del Polo 06 anni presso l'asilo del Pasquer di Feltre prende forma, presentata oggi un'iniziativa di valenza nazionale, un servizio educativo all'avanguardia, come è stato definito dal vice sindaco del Bianco, che si avvale della collaborazione della professoressa Daniela Lucangeli dell'Università di Padova e di Patrizia Granata, referente tecnico di Mind for Children. Al centro un modello di scuola che valorizzi lo sviluppo del bambino in quello che è considerato il periodo più importante dell'evoluzione della persona. La formazione di ogni individuo infatti ha i suoi momenti chiave proprio tra gli 0 e i 6 anni, un momento nel quale il bambino getta le basi per una crescita solida e che il progetto Feltrino mira a potenziare e alimentare nella maniera più efficace possibile. Un percorso in cui il bambino entra in età da nido e finisce quando ha finito tipicamente l'età della scuola dell'infanzia. È un percorso importante che il comune di Feltre avvierà e per avviarlo però serve una fase di formazione del personale importante, altrettanto importante. Lo faremo grazie alla collaborazione con Mind for Children, uno spin-off dell'Università di Padova presieduto e diretto dalla professoressa Daniela Lucangeli che è una delle massime esperte europee in materia che ha già partecipato a diversi incontri con noi. Il progetto si articola in tre fasi, da prima verrà organizzato un convegno informativo per introdurre al metodo educatori, insegnanti e genitori, seguirà poi un periodo triennale di formazione teorico-pratica dedicata a coloro che abitano il nido. È quindi un progetto che mira a completamente rivoluzionare l'offerta didattica e formativa del comune di Feltre e credo che nel giro di qualche anno potremo davvero coglierne importanti risultati. Alla presentazione del programma erano presenti anche la responsabile dell'Ufficio Cultura Anna Viviani e la coordinatrice delle educatrici Nada Arnoffi.